Matteo Scassini è il nuovo rinforzo per il reparto offensivo rosanero calciatore brasiliano classe 1996 arriva dal Corinthians a titolo definitivo e ha firmato un contratto di 5 anni con il club di Viala del Fante dopo naturalmente le visite mediche delle quali state vedendo le immagini attaccante in grado di svariare su tutto il fronte offensivo in grado di giocare sia da seconda punta che da trequartista promette di fare sognare tutti i tifosi rosanero. Andiamo a sentire le sue prime parole con la maglia del Palermo. Matteo Scassini o Cassini per me è lo stesso non è importante il nome con il quale vengo chiamato anche se preferisco Cassini. Sono molto felice di essere qui non riesco nemmeno ad esprimere tutta la mia gioia per questa grande opportunità è una chance unica ringrazio la società qui potrò crescere come calciatore e come persona fuori dal campo sono contento di essere a Palermo. Sono un attaccante che ha nella velocità nel dribbling e nel tiro le sue armi migliori cerco comunque di essere presente in ogni parte del campo per dare il mio contributo alla manovra offensiva. Quando ero bambino cercavo di imitare tutti i grandi del calcio ho sempre guardato con attenzione Cristiano Ronaldo è stato lui il mio modello. Conosco bene Dybala ho visto le sue giocate è un ottimo giocatore e ho grande rispetto per quello che ha fatto qui spero però che i tifosi pensino a me solo come Cassini lavorerò per fare grandi cose qui. Uno dei motivi per i quali ho scelto il Palermo e per il quale sono felice di essere qui è il calore della gente. So che i tifosi sono simili a quelli brasiliani sarà una motivazione in più per dare il massimo sono certo che qui mi sentirò a casa. Forza Palermo